del prodotto raccolto a un'azienda che ricicla. In particolare il progetto era partito con la raccolta delle bottiglie di plastica, solo le bottiglie appunto perché devono anche, voi sapete che i rifiuti se non sono puliti alla fine non si riciclano, nel ciclo di produzione a poco servono. Quindi questa raccolta fa sì che all'interno della scuola ci sia e dal punto di vista educativo una educazione ai consumi e anche alla possibilità di riciclare, di riusare quello che è già stato utilizzato e dall'altra parte invece un introito perché la vendita di questi materiali ha portato alle casse del Savignano sia appunto non cifre incredibili ma cifre che hanno comunque contribuito a realizzare dei progetti. Il progetto è stato ampliato anche alla raccolta della carta, anche lì selezionata, non la carta in maniera generica ma la carta quella insomma in particolare quella delle fotocopie, quella che permette il riciclaggio di un certo tipo e quindi adesso che partito anche di questo speriamo che ci sia un ampliamento del progetto. Ecco, solo questo. Grazie, grazie per le precisazioni. Enzo Cavani, Rivignola Cambia. Mi dispiace che non ci sia la Chiara stasera perché lei ha l'incarico ufficiale della scuola. Anch'io ho ascoltato con grande interesse le relazioni, devo dire che è un interesse derivato da un mio passato e anche da una consapevolezza acquisita e in qualche modo incrementato di fronte alla descrizione della situazione scolastica vignolese. Mi ha dato molti stimoli sentire che è stato espresso senza mezzi termini quell'orgoglio nei confronti della centralità della scuola che va ribadito costantemente, secondo me. anche se tutti, parlo delle istituzioni, si riempiono bocca e qualcos'altro nel celebrare la scuola come punto centrale e in qualche modo definitivo per la crescita di un paese, però in fondo vediamo anche che la disattenzione nel percorso concreto della società è molto molto forte. La scuola è uno strumento potentissimo di per sé e a sua volta usa strumenti altrettanto importanti, strumenti volti all'acquisizione di sapere, di competenze, alla promozione di una formazione che dia all'individuo gli stimoli per crescere personalmente e come elemento della società. Elemento della società, mi voglio soffermare un momento su questo aspetto. Il senso civico, che è uno dei grandi malatti, secondo me, della nostra comunità complessiva, va in qualche modo veramente rivitalizzato. E ne approfitto per parlare di questa situazione contingente e mi rifaccio anche a quanto diceva la signora Rapini a proposito delle eventuali alternativi per un trasporto in difficoltà, che anche Mauro ha citato. I bambini, gli alunni e ragazzi, chiamateli come volete, devono imparare a muoversi in maniera alternativa per milioni di motivi, fra cui ovviamente citiamo una sorta di acquisizione di consapevolezza dei problemi che creano i trasporti a carburanti, eccetera, eccetera. Mi dispiace Giancarlo, ma il discorso delle due macchine per famiglia non più utilizzate se secondo me non è una realtà che possiamo condividere. Mi soffermo appunto su questo luogo. Al di fuori delle porte della scuola, al di fuori del cancello della scuola media, muratori, nelle ore di punta, entrate e uscite, c'è un assembramento, mi viene da dire una parola molto forte, ci penso un po' poi la dico, incivile, di automobili, un uso smodato del diritto dell'automobilista. Smodato nel senso che non vengono rispettati i parcheggi in senso, diciamo, democratico, non si vuole privare il bambino che esce da un'attenzione smodata e quindi gli si toglie subito quasi con un atteggiamento violento lo zaino che obiettivamente pesa molto e non si fa quindi educazione civica nei confronti dell'alunno. Quell'educazione civica è una vecchia terminologia ovviamente, educazione civica. C'era anche una materia di insegnamento che è stata tolta dalla scuola, che comincia in famiglia, si trasferisce nella scuola e continua nella famiglia. In una soluzione di continuità che non deve essere mai messa in discussione. Quindi so che, ovviamente lo so perché ne faccio parte, che l'amministrazione ha in progetto un'iniziativa di smistamento del traffico, perlomeno di modificazione dell'attuale sistema di traffico intorno alle scuole, però credo che il problema più grande faccia parte della cultura delle famiglie. Quindi a piedi, in bicicletta, le macchine le riempiamo fino all'inverosimile, però va comunque in ogni modo modificato questo che ritengo un comportamento culturale e sociale di scarsa, efficace anche, oltretutto. Grazie Enzo. Vuole parlare un attimo? Sì, prima il sindaco e poi Giorgia Cristoni di Città di Vignola. Scusa Giorgia, siccome si è parlato di due progetti, volevo solo far presente per quel che riguarda la Dea Minerva, che peraltro ha già illustrato la professoressa Tengo, partirà anche a Vignola e anche i comuni di Castelvetto e di Spilamberto sono interessati, quindi sarà un discorso abbastanza ampio a livello di unione. Poi a dire la verità, l'assessore Enricchi aveva preparato un piccolo intervento su Dea Minerva, ma magari lo lasciamo dopo, perché già ne ha parlato il professor Satengo, e a Savignano non ne ha bisogno, però devo dire che anche Homer Bonesi ha avuto un ruolo fondamentale per la partenza del progetto Dea Minerva. Invece sull'altro progetto, di cui faceva accenno Enzo, cioè della viabilità intorno alle scuole medie, questo, secondo me, l'assessore Maesani, che sta curando la cosa, potrebbe dire due parole. Magari se vuoi prima intervenire tu, Giorgia, non c'è problema, ma volete. L'assessore Monica Maesani. Buonasera a tutti. Dico due parole, perché poi ne riparleremo, insomma, di questo progetto che prevede un percorso partecipato, quindi una decisione da prendere tutti insieme. Però la proposta che l'amministrazione ha fatto e che per ora è stata presentata alla scuola è quella di rivedere, appunto, le modalità di accesso alle scuole medie muratori e soprattutto in un'ottica di privilegiare la modalità, appunto, quella che diceva Enzo, pedonale ciclabile e soprattutto una modalità sicura. Quindi il progetto prevede la realizzazione di un sistema viario che consiste sostanzialmente nella creazione di sensi unici e anche la creazione, quindi questo consentirebbe poi, la creazione di un percorso pedonale protetto, quindi una sorta di piattaforma sulla quale gli studenti possono giungere a scuola in maniera tranquilla. Io sono mamma di un bimbo che viene a piedi da casa a scuola, qui alle scuole medie muratori, e accede dalla parte posteriore della scuola e si trova tutte le mattine a fare lo slalom in mezzo alle auto, quindi con grave pericolo. Questo progetto, che appunto adesso è nelle sue fasi iniziali, prevede un percorso partecipato, cioè la sua definizione, poi realizzazione, e quindi la sua successiva attuazione, appunto prevede un coinvolgimento degli interessati, che sono poi ovviamente prima di tutto gli studenti, le famiglie, i docenti della scuola, ma anche i cittadini e i residenti delle vie limitrofe alla scuola. Quindi speriamo che questo progetto si traduca poi, come diceva anche Enzo, nella acquisizione di un comportamento più responsabile, quindi insomma un pochino più condiviso e responsabile anche da parte delle famiglie, quindi sia condiviso proprio per questo, perché ci si rende conto insomma che far andare i propri figli a scuola in modo sicuro, in modo anche più tranquillo, meno concitato, con quei 5 o 10 minuti di più che ci vogliono per arrivare a scuola a piedi, tutto questo migliora la qualità della vita, al benessere di noi tutti. Grazie. Giorgia Cristoni. Allora, buonasera a tutti. Una cosa solo volevo puntualizzare, o comunque insomma che mi fosse resa chiara un attimo. Io sono una persona molto spiccia e ho sentito parlare di queste lavagne multimediali, e tutte queste serie di contatti dei bambini con gli altri paesi, eccetera. Ma la scuola dovrebbe comunque prevedere una socializzazione interna sua, una lavagna in meno e un contributo in più alle famiglie forse che ne hanno bisogno, una lavagna in meno e un aiuto a quelle situazioni che richiedono comunque un contributo. Non sono contraria alla tecnologia, però preferisco i rapporti umani. Tutto qua. Sergio Smerieri, Vignola Cambia. Buonasera. Faccio una coda all'intervento di Enzo Cavani perché anche secondo me il discorso della viabilità è un concetto culturale importantissimo che noi portiamo avanti come amministrazione cercheremo di migliorare. E ho avuto occasione di scrivere a Francesco Rubiani, non so se mi ha letto la mia email, ma colgo l'occasione per stimolare l'amministrazione di farsi carico anche che durante il percorso, il tragitto per andare a scuola, spesso c'è era che pulisce per terra le foglie e i cassonetti, causando polveri sottili, con i soffioni per le foglie, io li faccio tutte le mattine in bicicletta e mi respiro quando vengono queste polveri sottili. Vorrei che l'amministrazione si facesse carico di dire a ERA che può passare o mezz'ora dopo o mezz'ora prima. è arrivata, ho mandato un'email a Francesco o a te, non mi ricordo. Va bene. Anche perché c'è la corriera che passa, che blocca il traffico col pulmino che scarica la carne dal macellaio, il pulmino di ERA che raccoglie, cioè è un disastro. Qui basta secondo me organizzare un po' questa cosa qua e si è migliore. L'altra cosa invece mi riferisco a un po' al discorso delle fotocopie. Io vengo da, ho due bambini diciamo nell'età scolastica elementare e medie e pago, la professoressa sa, 30 euro all'anno di contributi alla scuola che per 700 alunni fa una cifra importante. Poi pago anche i libri e mi riferisco soprattutto all'elementare, sono un po' calato, ma io gli anni scorsi compravo i libri e facevano tutto sulle fotocopie. Ora io pretendo che voi dirigenti scolastici vi facciate carico anche di sollecitare un po' l'editoria perché se io devo comprare i libri e poi devo comprare le fotocopie e poi i libri non li uso però li porto tutti i giorni a scuola c'è qualcosa che non va. Allora, o le fotocopie o i libri perché tutti e due secondo me ma non so che non è colpa vostra però se tutti come dice il Fassina come Anci o Fassina scusa vabbè avete capito o come se tutti fanno un piccolo tantam e cominciamo un po' a sbattere i pugni sul tavolo probabilmente ripeto risparmiamo un libro e paghiamo le fotocopie che servono perché tutte e due le cose sono un po' eccessive. Grazie. Mi piacerebbe sentire anche il pubblico eh no c'è si era prenotato Francesco Rubiani cosa faccio chiedo solo a chi a chi interviene di presentarsi Buonasera mi chiamo Piani Daniela sono un cittadino buonasera sono Piani Daniela sono un cittadino e una mamma molto inesperta degli argomenti di cui avete parlato come cittadino vi chiedo solo una cosa innanzitutto ho apprezzato gli interventi dei relatori precedenti che hanno cercato di spiegarci con quali difficoltà cercano di garantire un servizio scolastico in parte